Veramente siamo stanche, ma il problema è che non possiamo stancarci, perché quella che il Presidente della Repubblica definì una tragica emergenza sociale, purtroppo è diventata normalità. Allora io penso questo, quando si interviene alla fine anche con leggi più severe non serve perché la cosa è già avvenuta, quindi il nostro lavoro è tutto incentrato sulla prevenzione. La prevenzione si fa soprattutto fra i giovani ma anche fra i bambini nelle scuole. Noi stiamo andando in tutta Italia, noi siamo andate in tutte le regioni d'Italia, siamo state chiamate, perché come sai come Spazio Donna siamo editrici di un libro che parla di una violenza, di una donna che si espone per parlare ai ragazzi del rispetto dell'altra, dell'altro anche, alcune volte. Siamo andati in tutte le regioni d'Italia perché crediamo molto nella prevenzione. Le leggi, gli interventi alla fine, le case di accoglienza, sono tutte cose che intervengono quando il fattaccio è già avvenuto, non deve avvenire, questo è il punto. Dobbiamo modificare la cultura, la società, i rapporti umani.